Oh zio, visto che sei sempre pronto a cazzeggiare quando si tratta di dire minchiate sei sempre veloce a rispondere perché non mi dai, non mi dedichi 5 minuti e ti ascolti bene con la cartella e mi dici cosa devo fare che rivedo i mix, sistemo le cose, cioè, vogliamo fare sto disco o no? Dai zio, ci siamo arrivati al 2036 Scream, scream for daddy 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. 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 . 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